Sono Perena, ho 25 anni e vengo da Napoli. Sono finanzata con Davide da due anni e otto mesi. Ho deciso di iscrivere a Tentation Island perché l'eccessiva gelosia di Davide sta portando a sgretolare il nostro rapporto. Sono particolarmente geloso nei suoi confronti, credo, per le modalità in cui è nata la nostra relazione. Entrambi eravamo fidanzati con dei rispettivi amici, quindi uscivamo in coppie e ci siamo innamorati perdutamente. Lei ci ha messo più tempo di me, molto più tempo di me, a lasciarsi alle spalle il passato. Questa è una cosa che mi ha segnato.